L'attività fisica come strumento per migliorare la qualità della vita e come parte integrante delle terapie. Se ne è parlato a Torino nel convegno Promuoviamoci, le nuove responsabilità delle scienze motorie, su iniziativa degli stati generali dello sport del Consiglio regionale del Piemonte. La Regione ha spiegato il Presidente del Consiglio Mauro Laus all'ambizione di fare da apripista per migliorare la salute dei piemontesi cambiando gli stili di vita. Promuoviamoci per promuovere la nostra salute a basso costo, in attività del tutto individuali tipo le camminate, le condizioni di tipo nutrizionale, cioè la nostra alimentazione, possono giocare un ruolo straordinariamente importante nel permetterci di arrivare ad una età avanzata in un buon stato di salute, addirittura pensabile in un ottimo stato di salute. Abbiamo ottenuto negli ultimi 50 anni un netto miglioramento dell'età media, dobbiamo oggi far sì che all'età media si accompagni un buon stato di salute.